nella consueta newsletter il leader di italia viva attacca nello rossi direttore della rivista di magistratura democratica gravissimo dice che attorno a me va creato un cordone sanitario non si pente di nulla rifarebbe tutto e a dargli ragione sarebbero i grandi cambiamenti del governo draghi e un matteo renzi battagliero quello che parla nella consueta newsletter a prendo un ventaglio enciclopedico di argomenti dai bossoli ricevuti fino alle affermazioni del magistrato rossi per finire alla crisi del pd e ancora sanremo e il papa su tutti il grande cambiamento fino a una settimana fa in tanti dicevano ma che cosa cambia con draghi al governo e invece sul recovery plan sulla gestione dell'intelligence sui vaccini tutto sta cambiando aumentano varie forme di minacce ma più che la busta con i bossoli ricevuta in senato grazie a tutti per le parole di affetto e amicizia mi stupiscono le frasi di personalità del mondo della magistratura nello rossi direttore della rivista della corrente magistratura democratica scrive che intorno a me va creato un cordone sanitario a me sembra una frase di enorme gravità detta da un giudice su una testata che è la rivista ufficiale dei giudici di magistratura democratica e della quale è il direttore e sul pd avverte non mi interessa commentare ciò che sta avvenendo nel pd era normale che dopo il fallimento della strategia o conte o morte se qualcosa potesse accadere l'asse con i 5 stelle sembra oggi inossidabile al punto da permettere a beppe grillo la provocazione della candidatura alla guida del pd i problemi del pd lasciamoli al pd ci sono due grandi insegnamenti da questo sanremo gli show a porte chiuse e senza pubblico non sono show perché lo spettacolo è fatto per la gente le poltrone senza persone sono pura aridità il secondo insegnamento solo due grandi professionisti dello spettacolo come amadeus e fiorello potevano comunque fare una impresa di questo genere i primi a criticare sono spesso gli stessi che lo scorso anno erano i primi a adulare triste ma fisiologico nel mondo rosso dall'invidia io invece voglio dire adesso grazie a chi ha avuto il coraggio di provare a portare sul palco temi veri dal coronavirus al ruolo delle donne dalla disabilità all'importanza di riaprire i teatri a chi ha avuto il coraggio di provare a portare il coraggio di provare a portare il coraggio di provare a portare